Verbagna rinnova il piano regolatore comunale. È iniziato il percorso per rivedere lo strumento urbanistico che la città aveva adottato alla fine degli anni 90. Il sindaco Silvia Marchionini e l'assessore all'urbanistica Giovanni Margaroli hanno spiegato nel corso di una conferenza stampa le linee guida del progetto affidato al professore Edoardo Marini, docente del Politecnico di Milano e urbanista. Dobbiamo rispondere alla realtà ai cambiamenti della nostra epoca con nuove necessità e nuove prospettive, soprattutto dopo la pandemia, spiega Marchionini. Ci sono state diverse varianti al piano regolatore attuale, ma ora abbiamo bisogno di una visione generale per capire in quale direzione far andare la città. L'idea di rendere Verbagna più attrattiva per nuove famiglie, contrastando quindi il calo demografico, nuove imprese e allo stesso tempo recuperare le aree dismesse anche attraverso regole più semplici e snelle. Marini che evidenzia la maggior semplicità è un tema di attenzione per molti piani urbanistici. Non vuol dire liberi tutti, tutt'altro, ma rendere le regole più chiare e semplici. Margaroli sottolinea che dobbiamo essere più attrattivi, in particolare per le aree dismesse che vediamo come ferite nella città. Servono regole chiare e semplici per chi le vuole recuperare, ma anche per le famiglie che cercano casa e per chi vuole ristrutturare nei nuclei di antica formazione, specialmente nelle aree periferiche dove è più complesso. Concorde la maggioranza, come sottolinea il presidente della Commissione Urbanistica Roberto Gentina. È un obiettivo da raggiungere e credo che il confronto porterà una soluzione ottimale. La capogruppo del PD Alice D'Ambrogi plaudi alla capacità di ascolto e al dialogo tra chi amministra e chi farà delle proposte. Paola Forni, di Alleanza Civica, ricorda l'importanza di pensare a Verbagna come una città giardino, mentre Massimo Ronchi, di Comunità VB, chiede che il nuovo piano regolatore sia in grado di dare risposte alle richieste di cittadini, imprenditori e operatori economici e che sia aggiornato. Giovanni Alba, ex assessore, evidenzia come Verbagna debba recuperare la sua posizione nel nord-ovest o può essere stata considerata alla periferia.